Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio della serie E-Football Mania Oggi con Raffaele Di Gennaro e Emil Laudero giocheremo a UMI Ragazzi, siete pronti? Non è grande Per rispondere è obbligatorio prenotarsi con quei pulsanti che avete lì davanti Bravissimo, proprio così Quando rispondete dovete iniziare la frase con Il mio nome è, altrimenti la risposta non è valida Guadagnerete 10 punti per ogni risposta corretta Ma ne perderete 10 per ogni risposta sbagliata Ho esordito tra i professionisti con l'Inter a 17 anni Mio fratello gioca nel gubbio Eh, vabbè Di Marco Eh, ma non vale Il mio nome è che ti dico di Marco E qui, quindi 10 punti li dobbiamo dare a Emil Sbagliato, vecchio Però bravissimi perché ci siete arrivati entrambi Sono nato il 21 febbraio 1993 Vai, 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 vai Guarda di, guarda di Il mio nome è Sei tu? No 5, 4, 3 È David Klassen Bravissimo! Sei andato a esclusione, eh Non la sapevi? Non sei attento ai compleanni È stato anche poco fa, dai Hai capito, ma il 93 Devi, è l'83 Questo giocatore vale 20 Il mio nome è 20 Ero famoso anche per le mie maglie personalizzate Fino al 2020 ero il primatista di rigori parati nel campionato italiano Il mio nome è? Eh, ma se si pronuncia lui devi dire lui Stammi randando No Il mio nome è? Eh, Walter Zenga? No Il mio nome è? Spagliuca Bravo Scusami Aspetta però No, ho sbagliato Qua devo segnare Meno 20 Meno 20 più 20 Mi hai mandato un attimo fuori pista con le magliette Sono il miglior marcatore dell'Inter nella massima competizione europea In un videogioco Konami del passato avevo potenza tiro 99 Adriano? Però è Il mio nome è Adriano Il mio nome è Ciamato Oscar Ho debuttato nel campionato italiano nel 2008 Mia mamma giocava a calcio Ho recitato in un film Nel 2016 ho vinto una competizione con la mia nazionale e sono stato eletto miglior giocatore Un mio gol allo scadere ha deciso una finale nel 2022 al San Siro Io, 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 io Il mio nome è? Alexis Sanchez Bravissimo Però è Era uguale Si può rivedere? No, è chiosa Secondo me non lo so Continuiamo con i compagni di squadra Ho esordito con l'Inter subentrando a bastoni Mi ispiro a Maicon Sono nato a Rotterdam Vai, vai L'hai detto tu Il mio nome è? 3, 2, 1 Non so Io posso ascoltare la prossima Hai prenotato quindi? No, non ho prenotato Sì? Non ha suonato Vedi che non suona Se non suona E allora andiamo avanti Esatto, io sconto i prossimi indizi Perché Rotterdam Vabbè Il mio nome è stato scelto in onore di un famoso attore e regista americano Scusami Il mio nome è Dan The Boom Bravo, bravo, bravo Ho fatto sui bastoni? Eh sì, vecchio Perché bastoni sei mamma qua da tanti anni Ho chiuso la mia carriera da calciatore in Grecia La prima e l'ultima partita che ho giocato nel campionato italiano con l'Inter Sono state a Verona contro il Chievo Il mio soprannome è legato a un personaggio della TV argentina Sono arrivato da una squadra di Madrid Cuccio Bravo Eh no, però aspetta Il mio nome è Cuccio No, no, no No, no No, no No, no No, no Io ho sbagliato prima Cuccio cambiasso Va bene, va bene Dopo però si è ripreso Capito, ma non è che dici Cuccio Il mio nome è Ma hai sti ben cambiasso? Eh Capito Io ho sbagliato prima No, no, ho già sbagliato io due o tre volte Ragazzi c'è l'ultima Che ovviamente è il giocatore bonus Ho collezionato più di 150 presenze nel campionato italiano Ok, va bene Ho giocato dieci partite in under 21 Il mio idolo sportivo è Roger Federer No, cavolo Eh, infatti Non è Gianna? Infatti che bisognerebbe dire il mio nome è Scusami, ma come fa ad avere fatto 150 presenze? Però Federer Ma che vuol dire? Anche per me Tagliamo questa No, no, questa la metti Questa è un meno 20 Questo è un meno 20 Questa è terribile Colleziono vini Il mio nome è Nicolo Barella No, no, l'ho fatto prima io No, no, io, io Vai, vai Il mio nome è Nicolo Barella Eschiette scartissimi entrambi È un meno 20 entrambi questo Scusami Il lato che colleziono vini sono io Vado con il quinto indizio Ho giocato a Torino, Genova, Milano Il mio nome è Emilio Vero Bravo Non ci sto credendo Ma quant'è il secondo? Ma il secondo sono io Ma non ci credo Ho vinto? Cambiamo un più 20 Eh, non l'ho stato Ma infatti l'ho detto prima Ho detto Non fai vedere Anche il mio Ragazzi È il momento di decretare il vincitore Il vincitore è Emilio Audero Bravo 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 Ma non ha partito Siete sicuri? Non ha partito Sicurissimi Vecchio Però io ti ho conosciuto io E non te Sì ma vecchio Ma tu hai detto Jansommer Hai detto Jansommer Vecchio Vecchio Ma hai significato Vecchio 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 Grazie a tutti